Ok, allora dopo aver visto l'esempio del video precedente in cui abbiamo visto un po' di animazione vediamo invece un po' uno script che verifica che si riesca a fare un esperimento corretto All'esperimento corretto si basa sul fatto che si scelgano certi componenti e si facciano certe operazioni in un determinato ordine Allora, l'ordine viene registrato fondamentalmente in una note card quindi avremo, come vedete abbiamo, per esempio questo qui è un esperimento che permette di creare il sale da cucina quindi mettendo 100 di HCl e 100 di NaOH mescolando si ottiene il sale da cucina Ora, notate che per poter fare questo esperimento occorre avere degli oggetti, questi, che hanno i loro rispettivi script vedete che c'è scritto metti componente chimico e adesso qui sono messi sotto forma di cubi, ma voi probabilmente saprete metterli meglio dentro delle beute o dentro le fiasche ma la cosa più importante è che il nome di ogni singolo oggetto, questo H2O che vedete qua deve coincidere con la terza parte che mettete qua e questo è importantissimo quindi qui effettivamente può darsi che, ho visto che alcuni di voi possono dire metti 100 millilitri di HCl, piuttosto che millilitri di NaOH ma se fate così, cosa che è sicuramente più chiara però allora HCl, l'oggetto HCl che è questo dovete chiamarlo compatibilmente MLHCl e di conseguenza anche l'NaOH dovete chiamarlo esattamente in questo modo quindi MLNaOH quindi a questo punto questo dovrebbe funzionare allora, come funziona questo? teniamo aperta questa note card funziona in questo modo voi cliccate e parte l'esperimento quindi si resetta fondamentalmente ci sono tre spassi per fare l'esperimento bisogna prendere 100 millilitri di HCl quindi io clicco su HCl magari facciamo così facciamo ancora il reset di questi oggetti visto che abbiamo cambiato nome quindi selezioniamo questi due elementi facciamo build questo si fa solo quando si cambia qualcosa facciamo reset script eccolo qua abbiamo millilitri di HCl e millilitri di NaOH ok, giusto per capirci allora mettiamo 100 millilitri di HCl quindi clicchiamo ML di HCl e gli mettiamo 100 invio ora, vedete che quando il nostro principale vede che una certa cosa ha detto quindi ML, HCl ha detto 100 ed è compatibile con la prima riga allora lui dice perfetto ho ricevuto questo il passo è giusto e quindi sopra di sé si mette il passo che è stato effettivamente fatto a questo punto cosa devo fare devo mettere ancora 100 millilitri di NaOH quindi clicco qua metto 100 e il passo è giusto vai avanti e per ultima cosa devo fare mescola senza niente per mescolare questa sostanza in cui ho messo 100 millilitri di HCl e 100 millilitri di NaOH clicco e qui faccio mescola vedete che a questo punto diventa rosso allora qui ho detto hai sbagliato adesso vediamo un attimo che cosa abbiamo sbagliato ok riprendo il problema è che ho messo mescola senza cioè con il simboletto in fondo invece va solo così che è più semplice quindi riproviamo ecco quando cambio qualcosa devo sempre ricordarmi di fare il reset quindi clicco e faccio reset in questo modo sono sicuro di ripartire da una situazione buona quindi mettiamo 100 100 di HCl mettiamo 100 di NaOH ok e poi avendo inserito quindi 100 di HCl 100 di NaOH clicco qua e poi metto l'ultimo passo mescola e qui direte che mi dice complimenti è pronto sarei da cucina e lui ha computato in quanti secondi ho fatto l'esperimento e quindi a questo punto lui reinizia da capo quindi questo è praticamente un controllore che consente di eseguire le istruzioni di controllare che effettivamente una persona cliccando su questo oggetto avendo fatto il reset per cominciare l'esperimento sa che ci sono tre steps e poi mette un tot proprio qui possiamo mettere 50 che è sbagliato devo ricominciare quindi mettiamo 100 che è giusto se poi sbaglio il secondo 50 anche qua è sbagliato devo sempre ricominciare da capo quindi il concetto giusto è eseguire correttamente questa cosa allora avete notato che ci sono varie possibilità quindi posso versare la nostra beuta mescolarla abbiamo appena visto scaldarla filtrare e ghiacciare sempre a caso volete mettere degli ulteriori verbi dovete cambiare questo script e questo script adesso non sto a dettagliarlo in merito ma a un certo punto c'è alla riga 49 c'è tutti i verbi che può realizzare quindi tra l'altro ghiaccia mescola versa se non vi piacciono cambiatelo e mettete altri altri sistemi quindi tutto il gioco si svolge qua se volete cambiare il time out qui c'è anche un time out di lettura che è è un po' 10 secondi quindi se per caso 10 secondi per scegliere è troppo poco qui potete mettere un time out più grosso e lui si limita appunto a verificare se quando gli arrivano le varie funzioncine dai vari script questi sono giusti oppure no se sono sbagliati quindi quando lui incrementa ogni volta che ha trovato il risultato giusto va sulla riga successiva della note card se è arrivato in fondo alla note card dà complimenti e prodotto l'oggetto e dice in quanti secondi l'ha fatto se non è arrivato in fondo invece va avanti nel senso che incrementa il proprio cursore e si dice ok e mette i vari passi in più lo script che invece viene messo sui singoli componenti in questo momento emette i componenti chimico ed è uno script relativamente semplice il quale quando viene toccato si limita a chiedere all'avatar che ha toccato la quantità aspetta 10 secondi anche qua se 10 sono pochi si possono modificare e quando vengono digitati dall'avatar che ha toccato una certa quantità si limita a mettere metti e a dirglielo al controllore quindi sarà il controllore che ha nella sua note card vedete metti quindi se al posto di metti volete mettere altri verbi dovete cambiare lo script questo e mettere il verbo che volete quindi in questo modo è possibile fare delle ricette o delle metodologie metodiche come mi è stato detto per poter rispettare e far fare delle sequenze corrette e quindi di conseguenza poter far evolvere insomma far insegnare questi questi mestieri unendo insieme quello script di effetti speciali come abbiamo visto prima con questo con questi script si possono riuscire a fare degli effetti più convincenti io adesso vi sto dando solo diciamo il cuore di tutto legato al video vedete i due script e la note card che stiamo usando avevo fatto anche una ricetta un po' più complicata magari vi passo nello script anche se nel video vi passo anche la note card un pochino più complessa che predeva di usare acqua NH4 reno 3 kcl per ottenere una formula leggermente più sofisticata e per questo è tutto vi ringrazio